Siamo in compagnia di Alessandro Zanon, ormai lei è conosciuto per altri motivi, perché lei fa parte dell'ufficio stampa della Pindustria, ma in questo caso è assessore ai servizi sociali del Comune di Teglio Veneto, lei è già a dieci anni che ha fatto il consigliere comunale, per cui è abbastanza esperto. Lei in questa legislatura ha questa nuova carica, come sta andando? Quali sono le iniziative? Quali sono i veri problemi di questo paesino che è, ricordiamo, il più piccolo della provincia della città metropolitana? Sì, le attività che riguardano i miei referati, in questo caso servizi sociali, assistenza, sanità, ovviamente anche in un piccolo comune sono delicati, a maggior ragione, visto i tempi correnti, tuttavia la sinergia con gli altri comuni anche in seno alla conferenza dei sindaci sanità per l'appunto è di aiuto e stimolo da questo punto di vista. Localmente ci stiamo muovendo in un'ottica di sinergia, mettendo insieme le risorse umane e economiche a disposizione per poter garantire dei servizi mirati anche a livello di volontariato e di rete locale di attività pomeridiane. Abbiamo il centro sociale di urno della località di Stuzionini, sul quale stiamo cercando di ampliarlo coinvolgendo anche gli anziani di Teglio e Cintello. Ricordiamo che nel frattempo si sta facendo la cena degli anziani qui a Cintello. Sì, siamo appunto in questa sede, è un momento di condivisione e di cordialità qua a Cintello nella frazione, ma nel contempo oggi c'è anche il pranzo degli anziani dell'associazione Tegliese, che ho avuto il modo appunto di salutare, portando il saluto prima. Dicevo l'attività di mettere insieme in rete in un centro baricentrico come sul Zonisco, coinvolgendo anche la vicina comune di Cordovato per creare pomeridianamente degli appuntamenti d'incontro dal punto di vista ludico, ma anche di culto con la Sente Messe, ma anche formativo e informativo con delle attività tenute dal personale dell'ULS 4 Veneto Orientale o dei comandi dei carabinieri locali per stimolare gli anziani, ma non solo, a partecipare, portando loro nuove nozioni circa argomenti di loro interesse, quindi dal punto di vista sociosanitario, la prevenzione, la salute alimentare, i vaccini, eccetera, ma anche dal punto di vista della sicurezza, la sicurezza della persona, del web, del rapporto con l'informatica, ma anche semplice cose tipo il poter registrare per notare delle visite mediche, eccetera, quindi mettendo insieme anche più aspetti, più associazioni, più gruppi, sfruttando il volontariato nella maniera giusta con il sostegno della prostituzione locale e delle amministrazioni comunali locali.